Questo qui è un pacco di Sufil, non so se conoscete Sufil, Sufil è un sito di gioiellini in argento, gioiellini in argento e è tanto specializzato sui ciongolini per i braccialetti, i charms, si chiamano charms e quindi braccialetti eccetera ma c'è anche la possibilità di personalizzare tantissimi accessori quindi io naturalmente ho personalizzato Mi sono presa la catenina Carrie se siete appassionati di Sex and the City, vabbè sapete a cosa mi riferisco alla catenina col nome, naturalmente non c'è scritto Carrie ma c'è scritto Sbi è tipo un sogno che si realizza quindi fighissimo Ho preso anche questi due braccialetti sono dei braccialettini con incisione, molto molto delicati sottili regolabili naturalmente come dimensioni e hanno questa scritta questa scritta è una delle cose personalizzabili ovvero ci sono già preimpostate le potete scegliere dal sito quindi farmi ispirare da quelle che ci sono sul sito oppure potete scegliere voi di fare, di scriverci una frase quindi potete scrivere anche che ne so, una dedica ho scelto frasi che erano già nel sito perché mi rappresentano moltissimo nel primo, quello in alto, one day at a time un giorno alla volta che è proprio il mantra della mia vita e l'altra frase bellissima che però devo leggere be you, love you, always, always è tipo bellissima e quindi questi sono pro memoria per vivere diciamo la vita con felicità, con calma, tranquillità e zen e poi i due gioiellini gemelli che cioè io spero che voi impazziate quanto sono impazzita io voi scegliete il ciondolo il ciondolo può essere anche non solo così lisce ma c'è forma di regalino forma di cuoricina però lo sapete che io sono per il minima quindi ho scelto questo ciondolo semplicissimo proprio pulitissimo, circolare, liscissimo il ciondolino è uno scrigno che si apre naturalmente anche questo è in argento non so se riuscite a capire la meraviglia dolcissima, super romantica, stucchevole di questa cosa tra l'altro questo è fatto, non so se ecco, non so se a questa grandezza riuscite a vedere ma sono veramente di qualità altissima cioè è proprio bella la stampa e poi dalla parte opposta potete farci scrivere la dedica e io mi sono fatta per me questo qui con me e Stefano e poi dulcesi in fundo mamma che spero che veramente non veda questo video così e faccio prendere un infarto quando glielo do io ho fatto fare questo c'è la foto della Laura del mio fratellino comunque siamo io e il fratellone e di qua nella dedica ci ho fatto scrivere